Una svolta importante che potrebbe cambiare l'andamento del processo sulla morte di Edoardo Zattin, il 18enne di Est, è morto dopo essersi accasciato durante un allenamento di box nella palestra di Monselice dove si era iscritto pochi mesi prima. La tragedia era avvenuta nel febbraio del 2023. Il suo allenatore, un 47enne residente a Rovigo, ha chiesto di patteggiare una pena a sospesa di otto mesi. L'uomo è indagato insieme ai due legali rappresentanti della palestra per cooperazione in omicidio colposo e gli viene anche contestato un reato omissivo. La procura contesta la violazione dei regolamenti che disciplinano la box in quanto i tre avrebbero consentito al 18enne di praticare degli allenamenti di sparring pur non essendo tesserato alla Federazione Pugilistica Italiana. Edoardo Zattin era crollato a terra dopo aver visto del sangue uscire dal naso durante un allenamento con un pugile esperto. Edoardo era morto due giorni dopo in ospedale. L'autopsia sul suo corpo ha inseguido evidenziato una frattura cranica e conseguente emoragia subudurale provocata da un trauma violento alla testa compatibile con un pugno. Ma chi ha sferrato il pugno non è mai stato individuato.